Buongiorno e benvenuti, giovedì 8 aprile 2021, questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno che apre i programmi in diretta di Fano TV sul canale 17. Allora partiamo dal santo, vediamo subito il cartello San Dionigi di Corinto, l'almanacco con il sole e il tramonto, l'alba e il tramonto, l'alba alle 6.38 e il tramonto alle 19.47. A schermo pieno da trebimeteo.com la nostra bellissima regione ancora innevata con questa neve di aprile insolita, inconsueta che ai più è piaciuta, agli agricoltori come vedremo un po' meno, ma comunque questo è il bollettino di oggi con cielo sereno ovunque e lo sarà fino a domenica, quando domenica arriveranno le piogge su tutta la regione Marche. Allora, oggi arriva il generale Figliuolo, nelle Marche arriva il generale, sentiremo che cosa da dirci, che se ci sono delle iniziative particolari per dare una spinta, un'accelerazione anche nella nostra regione ai vaccini, ma intanto i giornali parlano del rientro in classe degli studenti. Ieri tantissimi, sono 40.000 gli studenti che sono tornati sui banchi di scuola, chiaramente non tutti perché i superiori un po' si un po' no, una metà è rimasta a casa. Allora, vediamo subito le fotonotizie, i titoli delle prime pagine, questo è il Carlino, è il Carlino di Pesaro, finalmente in classe, il ritorno alla scuola, alla scuola dei ragazzi, ma le superiori sono il 50%, finalmente in classe, questo è il titolo, poi morto per Covid, non ci fu reato, inchiesta sul decesso di un autista, di un'ambulanza, la procura chiede l'archiviazione, la famiglia si oppone, l'allarme, focolaio in carcere, un altro detenuto trasportato in ospedale e poi a sorpresa Pfizer per tutti, anche per i professori, negli ultimi giorni è successo al punto vaccinale Ristò di Pesaro. E oggi scatta intanto lo screening per gli studenti delle medie a Pesaro, tamponi per tutti, i sindaci in campo per le dosi agli anziani, l'appello vaccinate anche le badanti. Nevischio d'aprile, allarme agricoltori, le stranezze del meteo, poi una bellissima storia di una ragazza, la storia Pasquale di Naim, che è una pesarese doc di 20 anni, a rispetto del nome che invece è un nome arabo, che significa dolce, battesimo, comunione e cresima, in un colpo solo. Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, scuola e subito screening, dopo il rientro, via ai tamponi, alle medie e già fissati i giorni dei test per gli studenti delle superiori. Un anno fa gli stessi ricoveri in rianimazione, curve in fotocopia, il calo si ripete. E dunque è quello del trend del 2020. Poi la riservista, quella storia che vi abbiamo raccontato ieri attraverso il Corriere Adriatico, la riservista vaccinata diventa un caso, la toppa dell'Asur era a rischio, si difende un po' l'Asur così, insomma, non ci sono le liste, non esistono liste, però vedremo poi come ha tentato in qualche modo di giustificarsi l'Asur dopo aver fatto questa vaccinazione. La neve sulla costa, terza volta ad aprire nell'arco di 130 anni, e poi un magnate arrestato, la Lega dice comune chiarisca i legami. Parliamo di un imprenditore, di un magnate, insomma, russo, una storia che è apparsa già ieri sui giornali locali. Ristoratori invece a Roma, non siamo ribelli, semmai partigiani, dopo le proteste davanti a Montecitorio Autista, 118 morto per Covid, la Procura vuole archiviare, non c'è la prova che si sia infettato al lavoro, prevenzione incompleta, la famiglia però si oppone. Andiamo adesso a vedere invece le pagine, anzi, del Carlino, velocemente, di Ancona e Macerata. Allora, quella di Ancona, eccola qua, è la fine di un incubo. Il sindaco di Santa Maria Nuova, Guarito, lo ricorderete perché ne hanno parlato anche i Tg nazionali, aveva donato la sua dose di vaccino, con un gesto di altruismo, però poi si era beccato il Covid. Però adesso è guarito e dunque la fine di un incubo. Il titolo invece d'apertura, da fine maggio, vaccini al Pallarossini, questa è la notizia e la novità. Da Macerata invece è soltanto la fotonotizia, la fotonotizia è per questo signore di 85 anni che fa il bis con la seconda laurea. Stiamo parlando di Italo Spinelli, anche lui ne hanno parlato tutte le televisioni, prenderà questa laurea seconda all'Università di Macerata. dopo la corona dall'oro in filosofia nel 2018, discuterà la tesi in storia. I miei figli, dice, sono orgogliosi di me e sto diventando amico anche del Rettore. Il Rettore Adornato lo vedete qui con lui mentre posa per questa foto, ricordo. Adesso invece le pagine interne, subito quella del Corriere Adriatico. Terapie intensive, superato il picco, curve in fotocopia. Allora, il trend in calo dei ricoveri, ripete l'andamento del marzo-aprile dell'anno scorso, la saturazione è scesa dal 63 al 56%. Anche i contagi sono in flessione, l'incidenza è a 168. In rianimazione 139 pazienti, proprio come un anno fa. In un giorno ci sono state anche 67 persone dimesse dall'ospedale, cioè persone sono tornate a casa. L'effetto Pasqua ha inciso però sul numero dei tamponi testati. AstraZeneca, il vaccino no a chi ha meno di 60 anni. Nelle Marche 32 punti vaccini dedicati ai medici di famiglia. La Regione sta ultimando la mappa con le nuove sedi per le somministrazioni. Saltamartini dice che nelle Marche è disponibile oltre 133 mila sieri, soprattutto sono sieri Pfizer. Ecco la mappa anti-Covid, con i punti vaccinali di prossimità da attivare per i medici di base. Quindi dove ci saranno i medici di base? Ecco, soltanto per quanto riguarda l'area 1, quella di Pesero e Urbino, per esempio a Pesero i medici di base potranno vaccinare al Centro Monaldi, a Urbani alla Casa della Salute, così come a Calcinelli, a Pergola in ospedale, a Mondolfo al Palazzetto dello Sport, a Montecchio a Casa della Salute. E poi tutti gli altri possono vederlo adesso velocemente scorgendo appunto con gli occhi questo riquadro del Corriere Adriatico di oggi. Allora, Erdis invece, siamo sulla pagina di Urbino, via l'AstraZeneca alla Biolab. Chi non può deve tornare, trovare il sostituto. Partita l'imponente campagna che riguarda nella Regione 50 strutture che accolgono 4 mila studenti. Dunque, da ieri è iniziata questa campagna di vaccinazione per il personale Erdis. Ricordiamo che il ritiro dei vaccini a AstraZeneca nella Regione Marche da parte dell'ente è già avvenuta prima delle festività pasquali. L'altra data sarà il 12 aprile, mentre gli appuntamenti successivi sono in corso di definizione. I vaccini saranno somministrati dal laboratorio Biolab per il personale di istanza presso il presidio di Urbino in via Vittorio Veneto. I volontari che hanno aderito alla campagna vaccinale hanno ricevuto una comunicazione via mail che li ha informati della data e dell'ora di esecuzione del proprio vaccino. E si sono dovuti dunque recare presso i suddetti centri con i documenti allegati alla mail di convocazione assolutamente compilati e pronti per la consegna. Quindi senza stare lì e perdere troppo tempo. Ora, se qualcuno però non intende più fare il vaccino, dovrà trovare un sostituto, non necessariamente però tra i colleghi di Erdis, ma anche semplicemente tra familiari e o conoscenti. Scuola a Pesaro si passa subito per lo screening veloce. Dunque i tamponi, rientro in sicurezza, l'amministrazione ha già comunicato le prime date utili. 13, 14, 20 aprile, alcuni studenti non sono tornati perché positivi e sono ancora in isolamento. Mentre il preside Rossini dice ancora potevamo aspettare altre due settimane con la fascia arancione. Però da ieri tutti sono tornati fino alla terza media e alle superiori del 50% in presenza. Siamo pronti, i ragazzi sono già in classe, tutti gli insegnanti sono presenti. Ha detto il preside del liceo Marconi Riccardo Rossini, che riveste anche il ruolo di presidente dell'Associazione Presidi delle Marche. Ma i numeri dei positivi e dei contagi sono ancora rilevanti e sono preoccupato, dice Rossini. Speriamo che si possa arrivare fino in fondo, ma oggettivamente non siamo come lo scorso anno. Andiamo sulla pagina nazionale. Parliamo ancora di AstraZeneca, perché AstraZeneca fa ancora parlare di sé. Agli over 60 anche in Italia, l'Europa sui casi di trombosi dice, beh sì, un nesso c'è, adesso lo ammettono. L'Agenzia del Farmaco restano più benefici, però che rischi? Il governo insiste, il vaccino è sicuro, ma cambia alcune raccomandazioni. Intanto cosa fanno negli altri paesi? Vediamo un po'. A Seul decide lo stop solo sugli over 65. Il Belgio invece si accode e dice no, AstraZeneca non va bene, almeno momentaneamente ai giovani. Mentre gli Stati Uniti dicono assolutamente noi non lo useremo, a noi bastano gli altri sieri, sono avanti. Intanto arriva il commissario Figliuolo, appello del PD, più punti vaccinali. La visita oggi del commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Con lui ci sarà anche il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio e saranno oggi nelle Marche dove parteciperanno all'inaugurazione del nuovo punto vaccinale di Macerata. Però visiteranno anche il punto vaccinale di Ancona. Con lui ci sarà ovviamente il Presidente della Regione Acquaroli, l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. Il PD coglie l'occasione per sollecitare più punti vaccinali. Intanto vedete l'altra notizia che riguarda un detenuto, un secondo detenuto, stiamo parlando del carcere di Villa Fastigia a Pesero, un altro detenuto che è stato ricoverato in ospedale per il Covid. È il secondo carcerato per il quale è stato necessario ricorrere alle cure del San Salvatore. Da giorni infatti l'Istituto Penitenziario della città è alle prese con un focolaio del virus, quasi una settantina i contagiati, 58 detenuti asintomatici e 16 agenti di Polizia Penitenziaria. Per i due ricoverati che hanno manifestato i sintomi più gravi della malattia. Ci sono appunto questi due che hanno manifestato anche i sintomi e quindi evidentemente hanno bisogno di cure e qualche problemino respiratorio. Il secondo ricovero è stato disposto l'altra notte intorno alle 3. Mentre c'è un focolaio a Senigallia in un'azienda, ci sono 20 persone positive. Una situazione difficile ad Arcevia dove anche un'altra impresa avrebbe problemi. In generale i casi in tutto il senigallese sono però in calo. Si parla di questa azienda di Arcevia dove ci sono positivi più della metà degli operai. Ieri martedì ad Arcevia è caduta anche la neve che ha imbiancato le strade regalando un panorama primaverile piuttosto insolito. Circa 20 i positivi in questa azienda dell'Inter. Non è la sola perché altri casi di Covid si sono verificati in un'azienda con sede a ridosso della città. Subito sono stati attivati tutti i protocolli e i familiari dei dipendenti, quelli positivi ovviamente, sono stati sottoposti ad isolamento fiduciario in attesa di effettuare il tampone. E ricordiamo che isolamento fiduciario significa che abbiamo fiducia che voi state a casa, insomma, ecco in sostanza. Poi non tutti purtroppo lo fanno e vanno comunque, escono fuori in attesa di fare il tampone. Mentre alla palestra dei Vigili del Fuoco, siamo sempre sulla cronaca, alla pagina di Senigallia, partito l'allestimento del punto vaccinale e da domani dovrebbero partire le somministrazioni per gli over 70 che devono essere vaccinati. Andiamo a vedere invece adesso questa pagina, a pagina 5 del Corriere Adriatico. Si parla oggi di quella persona di cui abbiamo parlato ieri appunto parlando, riferendovi dell'articolo del Corriere Adriatico e di quella donna che a un certo punto si è presentata all'ultima ora alla baraccola di Ancona, alla vigilia di Pasqua. Si è messa in fila e ha ricevuto la dose. Questa donna oggi si apprende, questa donna di 53 anni, cardiopatica, si apprende che non aveva ricevuto nessuna e-mail, non era in nessuna lista, tanto meno di riservisti. Era andata da Porto Recanati ad Ancona e quindi in zona rossa, ricordiamo che eravamo ancora in zona rossa, quindi la signora non si poteva spostare da Porto Recanati ad Ancona, ma lo ha fatto perché? Perché doveva andare a fare una visita ad Ancona e quindi nell'autocertificazione evidentemente aveva scritto che era per motivi sanitari. Quindi cosa ha detto? Prima di tornare a casa ha detto facciamo un salto alla baraccola, vediamo se riusciamo a fare un vaccino. E si è presentata poco dopo, alle 7.21 di sera, alle 19.21. E insieme a lei c'erano altre, come ha scritto ieri il Corriere Adriatico, 17 persone, in tutto erano 18 persone, compresa questa donna. Ora, lei racconta ad Andrea Taffi sul giornale di questa mattina che evidentemente non solo lei, ma anche gli altri 17 colleghi riservisti non erano stati preallertati, erano lì perché come lei probabilmente avevano pensato che si poteva fare. E così è stato. Ora però, qual è il problema? Che oggi l'Asur, andiamo sul giornale, la lo vedete già, bravo Riccardo, la riservista vaccinata, è un caso, la toppa, l'Asur mette una toppa, ecco. E dice, un po' giustificandosi, era a rischio. Arrivata all'ultima ora, alla vigilia di Pasqua, se avessi in fila ha ricevuto la dose. L'azienda dice però, le liste non esistono, preallertiamo solo i soggetti fragili cercando di anticipare. Nella nota che è arrivata ieri sera, non si comprende di, scrive l'Asur, come mai in assenza di qualsiasi giustificativo, qual è la prenotazione appunto al vaccino, sia stato possibile in condizione di zona rossa uscire dal proprio comune, come dichiarato dalla stessa cittadina di Porto Recanati, e aspettare un'ora davanti al Paolinelli, quindi al punto vaccinale. E poi dopo racconta, adesso lo potete leggere voi, acquistando il giornale questa mattina, Nadia Storti dice, noi oltre a prendere prenotazioni, preallertiamo le persone, chi ha più di 80 anni e non sono vaccinate, oppure allertiamo le persone fragili, e insomma via discorrendo, e tutte le categorie a rischio, includendo anche i volontari della protezione civile, invitandoli a presentarsi a margine delle vaccinazioni regolari, perché insomma potrebbero anche approfittarne. E così ha fatto questa donna dei 53 anni. Tra l'altro adesso chiaramente ha fatto effetto ieri leggere, insomma, che c'erano 18 persone in fila, che così si sono presentate senza prenotazione, anche per non creare giustamente false aspettative, o per creare confusione. Ecco, l'ASUR giustamente ha messo un attimo i puntini su lei. Però non dimentichiamoci che il generale Figliuolo, qualche tempo fa, qualche settimana fa, aveva proprio detto, non buttiamo, non sprechiamo le dosi, per cui vaccinate anche il primo che passa. Questo aveva detto il generale Figliuolo, che tra l'altro oggi sarà, ripetiamo, nelle Marche in visita tra poco. Ecco, quindi voglio dire, alla fine non è successo niente di particolare. Adesso ognuno ha fatto il suo mestiere, la donna ci ha provato, e l'ASUR si è difesa per non creare confusione. Ma insomma alla fine non vedo dove stia il caso, insomma. Però, insomma, l'importante è che non vadano sprecate le dosi e che, insomma, si faccia il possibile per vaccinare più gente possibile, insomma. Allora, andiamo adesso invece sugli autobus, perché sugli autobus adesso arrivano gli steward. Chi sono gli steward? Sono delle persone, come esistono negli stadi, che controllano, quelli che stanno e che guardano, che tutti stiano seduti a posto, che siano distanziati. Questi sono gli steward. I controllori in più. Dei controllori in più, oltre a quelli che sono già dipendenti dell'azienda dei trasporti. Ora, che cosa faranno questi nove steward in più a Pesaro? Vigileranno sugli studenti e debuteranno lunedì, spiegafanti, che è l'amministratore delegato della Security La Fenice, perché questi steward ovviamente sono lì temporaneamente e sono dei dipendenti di agenzie della sicurezza privata, insomma. Ci saranno anche loro per vigilare e fare in modo che gli studenti, almeno anche sugli autobus, non facciano sembramenti. Andiamo invece sulla cronaca del Carlino, perché ecco la fotografia di Giorgio Scrofani, lo riconoscerete in tanti, il 56enne di Calcinelli, di Colli e Metauro, che è morto di Covid il 30 marzo scorso. L'autista di ambulanza morto per Covid, e la Procura non è omicidio colposo, chiesta l'archiviazione, dunque non è certo infatti che Giorgio Scrofani si sia contagiato durante l'attività lavorativa, perché? Per le negligenze del datore di lavoro. Ma la famiglia si oppone. Nel registro degli indagati era finito il legale rappresentante della Croce Europa, che si riteneva non avesse fornito le protezioni. E adesso cambiamo argomento. La neve, neve d'aprile, tre volte in 130 anni. Luigi Benelli questa mattina scrive, racconta un po', anche con l'ausilio delle fotografie, dove vedete questo albero coperto di neve nell'entroterra, ma anche questa bella foto tratta da Facebook, dove si vede in lontananza una tromba marina. Eccola qui, la vedete? Questa qua, la tromba marina, che non sono una novità dalle nostre parti, ma quando si vedono fanno sempre un bel effetto. Allora, un evento insolito, anzi molto insolito, quello della neve ad aprile, ma c'è anche una coincidenza particolare. L'ultima volta che era accaduto in questo mese era il 7 aprile del 2003, proprio lo stesso giorno di ieri. E l'osservatorio Valerio di Pesero fa sapere che la volta precedente addirittura era il 19 aprile del 1917, quindi oltre 100 anni fa. La temperatura minima ieri è stata di più 2,9, quindi 3 gradi a mezzogiorno. Nel pomeriggio è stata osservata anche questa tromba marina a largo delle coste e alcune foto hanno fatto rapidamente il giro dei social. Ne parlano anche sul resto del Carlino con questo titolo. Neva ad aprile, allarme degli agricoltori. Già da oggi le temperature rialzo. Ieri il risveglio con i fiocchi bianchi. Alberto Nobili dice precedenti simili nel 2003 e nel 1917. Prima due mesi di siccità e ora una primavera imbiancata. Questa è l'allarme della Coldiretti che dice questa nevicata mette a rischio chiaramente i raccolti. Perché? Perché le piante nel riposo invernale certamente possono sopportare temperature inferiori allo zero, ma in fase di fioritura o dopo aver messo le nuove fogliorine diventano molto sensibili. Ora, a onor del vero, a parte il freddo di questa mattina, la temperatura era intorno agli zero gradi. Forse nell'interno si è sceso a meno due. A meno due sicuramente si è scesi. Quindi una bella botta l'hanno presa le piantine con le foglioline. Però ecco, diciamo che nella giornata di ieri la temperatura non è mai scesa sotto lo zero con le nuvole. Una volta che sono andate via le nuvole chiaramente non c'è più il coperchio per cui il freddo è calato tutto a terra e di conseguenza certamente il freddo lo hanno avuto. Speriamo bene per quanto riguarda il freddo, ma ricordatevi che il problema non è il freddo, sarà l'acqua, perché, come dice anche la Col di Retti, sono mesi di siccità, sono mesi che non piove e i pozzi si stanno prosciugando. Sant'Arcangelo invece sulla pagina di Fano ancora, progetto definitivo, la spesa dell'opera sale a 6 milioni e mezzo, approvato dalla Giunta il lavoro dello studio romano di consulenza, parte dei fondi sarà però a carico del comune di Fano. In questo spazio, in questo Sant'Arcangelo, che cosa ci sarà? Spazi per il museo del Carnevale, bookshop, caffetteria, casa della musica e bike sharing. Poi sotto invece la cronaca, voleva gettarsi sotto il treno, un 48enne è stato salvato dai carabinieri, provvidenziale intervento, dopo l'allarme lanciato da un amico che aveva ricevuto un sms. Voto per l'autonomia di Aset, Aset è l'azienda pubblica che è in mano al comune di Fano per la maggior parte delle quote, adesso si lavora ad un asse trasversale, in consiglio comunale deve andare una mozione, andrà una mozione delle minoranze e il PD dice la voteremo se accolgono un emendamento. Ora la mozione impegna il Sindaco e la Giunta a dare mandato ad Aset di intraprendere con urgenza una nuova strada per la realizzazione del biodigestore che non contempli più marche multiservizi come possibile partner, ma di valutarne altri possibilmente pubblici e di province confinanti, garantendo in ogni caso la partecipazione maggioritaria di soci pubblici. Fano è anche città dei bambini, lo sappiamo, Fano da 30 anni è la città dei bambini, due mesi per rilanciare il progetto, il programma prevede conferenze e incontri, istituito il premio Concordia. E allo stadio invece, allo stadio di Fano, sempre si lavora alla gradinata ospiti, un sopralluogo di Fanesi che dice la struttura per i tifosi sarà rinnovata per l'inizio della prossima stagione. E dal Carlino invece, sempre la pagina di Fano, si parla di voglia di vacanze, si riaffacciano i turisti, piena luglio ed agosto, le strutture che sono immerse nel verde, buone le prenotazioni negli appartamenti dei privati, ma gli stranieri restano più cauti. Oggi il turista preferisce le piccole isole della Grecia, dove dicono venite qua, siamo tutti vaccinati, a noi farebbe tanto comodo il turismo tedesco che parte dal 15 di maggio. Ma dove andranno invece i turisti, o meglio i Fanesi? Al momento chiedono Lampedusa, Eolie e Sardegna per fare il piccolo ponte del 2 e del 6, dal 2 al 6 giugno. Così lungo? Mamma mia. Dall'estero ci chiedono che ci chiedono volete il vaccino o il tampone, ma le agenzie non hanno risposte da dare. Questo è l'articolo di Tiziana Petrelli sul Carlino di Fano di oggi. Poi da Pesaro invece, Luigi Diottallevi ha scritto un bel articolo su una storia che a me è piaciuta tanto questa mattina. È la storia di Naim, Naim Maestrini, che è una ragazza doc pesarese, italianissima, che però ha questo nome arabo che significa dolce, Naim, e che siccome è cresciuta, come racconta lei, in una famiglia dove i genitori non credevano nella chiesa, a un certo punto lei a 17 anni ha però iniziato a capire che qualcosa stava cambiando in lei. E sentiamo, sentite che cosa dice questa ragazza appunto. All'età di 17 anni qualcosa è cambiato in un periodo difficile della mia vita. ho iniziato a sentire la presenza di Dio che era con me e ho veramente visto con i miei occhi che Dio ascolta e aiuta tutti. E da quel momento ho iniziato a credere in Lui e ho sentito che dovevo ascoltare la sua chiamata ed ho capito che nemmeno una foglia si muove senza il volere di Dio. E ho iniziato a camminare con Lui finché non sono diventato ufficialmente sua figlia. E in un colpo solo ha preso battese con comunione e Cresima. Queste sono le fotografie di Naim e qua la foto di gruppo con i padrini, madrine e con padre Marzio Galletti che ha celebrato appunto questa bella cerimonia. Polpette killer a Pesaro invece sempre a Pesaro Villa San Martino continua la caccia all'aspirante killer dei cani che nei giorni scorsi lasciando sparse delle polpette avvelenate nel parco Trivella che si trova in via Becci a Villa San Martino a Pesaro ha rischiato di uccidere una cucciola di un anno salvata poi in extremis e purtroppo non è la prima volta come scrive Giorgio Monticelli che succede infatti sempre nella stessa zona lo scorso luglio luglio dell'anno scorso era stato avvelenato un beagle di un anno e adesso chiaramente chi sta lì e porta lì i cani hanno paura per i loro cuccioli e quindi insomma chiedono evidentemente più controlli. Da Senigallia il Corriere Adriatico riapre il vecchio parcheggio dell'ospedale ma è soltanto per i dipendenti e a pagamento scatta la protesta Senigallia si conferma la cenerentola da oltre dieci anni non abbiamo la mensa poi da domani vaccini alla palestra dei Vigili del Fuoco e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti